Mi rivolgo a tutti coloro che sono ammiratori di Monsignor Viganò, soprattutto dopo le sue ultime uscite. Allora io vi farò un discorso oggettivo, un discorso pulito pulito. Convocato stranamente a processo a due settimane dal deposito dell'istanza sulla sede impedita di Papa Benedetto, argomento intoccabile dal mainstream, tabù assoluto, il dicastero della dottrina della fede di Tuccio Fernandez convoca Viganò a processo per scisma e per aver messo in dubbio la legittimità di Papa Francesco. Allora che cosa poteva fare Monsignor Viganò, al quale certo non mancano le risorse? Poteva mettere insieme un pool di dieci canonisti e smontare pietra su pietra il dicastero per la dottrina della fede. Con la sede impedita, Monsignor Viganò poteva salvare la chiesa nella sede del tribunale di castero della dottrina per la fede portando avanti un processo parallelo a quello che speriamo partirà al tribunale dello Stato della città del Vaticano e così si salvava la chiesa. No, la sede impedita non va bene, non va bene. Monsignor Viganò la detesta, la odia, non l'ha mai smentita e il romanzetto a Laden Brown. Benissimo, allora che cosa poteva fare? Poteva appellarsi alla barzelletta di Ratzinger col doppio papato, eretico modernista che era un po' alticcio la sera della declaratio se sbagliato a scrivere Monsignor Ministerium e comunque la declaratio è nulla invalida poteva almeno appellarsi a questo si sarebbe almeno potuto riconoscere che la rinuncia di Benedetto era invalida il rischio enorme di questa operazione come ho già espresso era quello di portare a una sanazio di Bergoglio cioè nel momento in cui si dà ragione a Viganò accidenti la rinuncia di Benedetto è nulla invalida per errore sostanziale perché era eretico modernista benissimo, dobbiamo sanare Bergoglio come facciamo un conclavetto pre-2013 di veri cardinali di nomina pre-2013 e rialeggiamo Bergoglio stavolta validamente si sarebbe restaurata la linea successoria papale certo, con Bergoglio però intanto si sarebbe restaurata la linea successoria papale no, neanche questo ha fatto Viganò neanche questo perché lui ha fatto lo sdegnoso ha detto non ho alcuna intenzione di sottopormi a un processo farsa in cui coloro che mi dovrebbero giudicare imparzialmente per difendere l'ortodossia cattolica sono allo stesso tempo coloro che io accuso di eresia tradimento e di abuso di potere benissimo lui non si difende in sede processuale quindi verrà condannato e quindi che cosa diventerà? diventerà l'alfiere del cattolicesimo conservatore e si porterà via con sé tutti i cattoliconi conservatori dove c'è un sacco di brava gente persone che amano la tradizione che sono realmente cattolici e le 60 o 90, non ricordo, tornellate d'oro che ha il Vaticano rimarranno in mano agli gnostici antipapali rimarranno in mano dei Bergogliani la Basilica e San Pietro mezza Roma città del Vaticano la Cappella Sistina i Musei Vaticani tutto quello che volete e che sapete quindi questa fierezza di Viganò sortirà la sua condanna il suo scismo viene consolidato e quindi molte forze ancora cattoliche saranno portate fuori come gli ebrei che escono dall'Egitto saranno portati fuori nel deserto di uno scisma e lì si perderanno qualcuno mi può obiettare eh ma anche i sacerdoti del sodalizio mariano di Don Minutella hanno fatto un rifiuto sdegnoso nel difendersi attenzione perché i sacerdoti del sodalizio mariano di Don Minutella credono nella sede impedita la sostengono hanno sostenuto la petizione sostengono l'istanza e quindi il loro diciamo il loro rifiuto è veramente eroico autentico cercano il martirio eccetera e poi i sacerdoti del sodalizio mariano non hanno le risorse di cui dispone Monsignor Viganò non hanno i soldi per mettere insieme i canonisti non c'è nessun canonista che vorrebbe prendere le loro difese quindi i sacerdoti del sodalizio mariano hanno fatto un rifiuto di difendersi autentico puro sincero Monsignor Viganò avrebbe potuto mettere in piedi un reggimento di avvocati e smontargli il dicastero per la fede dal comignolo fino alla cantina e invece non l'ha fatto non l'ha fatto perché io credo è una mia opinione personale non ho alcuna documentazione per affermarla io credo personalmente la mia impressione che sia una manovra studiata a tavolino che se la siano studiata bene per spartirsi la torta vabbè tu ti prendi questa bella fettona ti porti via i tuoi tradizionalisti ti scismi definitivamente e mi porti fuori un sacco di gente che scoccia qui dentro la chiesa rimaniamo noi tutti gnostici tutti amici tutti allegri e in pieno divertimento arcobalenico potete negare qualcosa di quello che io ho affermato? potete negare che Monsignor Viganò abbia sempre combattuto la sede impedita? potete negare che con questa rinuncia a difendersi venga meno qualsiasi possibilità in quella sede giuridica di riconquistare la chiesa di cacciare gli usurpatori o quantomeno di restaurare una linea successoria papale? non credo che possiate negarlo quindi non cadete nella trappola costituita da questa figura che sembra così affascinante ma che vi porta nella trappola nel binario morto dello scisma la chiesa va riconquistata la chiesa cattolica va liberata bisogna riappropriarsi di tutto adesso diranno che ciò non ci sta pensando alle 60 tonnellate d'oro vedrete diranno ancora questo ho citato le 60 tonnellate d'oro per far capire diciamo lo smacco che subirebbero i cattolici nel farsi proprio fregare dagli antipapali dall'inizio alla fine no? bene ci vediamo il 29 a Perugia e il 30 a Roma Hotel St. John alle ore 16 in entrambi gli appuntamenti per parlare di attentato a Papa Benedetto dell'istanza in tribunale di queste manovre con Monsignor Viganò e di tante altre cose ancora tra cui vi anticipo la modalità con cui faranno fuori la transustanziazione della Messa un caro saluto a tutti